ciao ciao finalmente iniziata la bella stagione e come ogni anno apriamo la nostra casa al mare e ci sono sempre tanti lavoretti da fare soprattutto in giardino e siccome quando si tratta di questi lavoretti andrea un po pigro vedremo di minimizzare la fatica utilizzando degli attrezzi con batteria a litio molto maneggevoli e semplici da usare anche a prova di inetto come andrea sono prodotti adatti per tutti concepiti per l'uso domestico ma c'è qualcuno che dice che io sono pigro ma vi dimostrerò che il contrario accetto la sfida vediamo chi è più veloce finisce prima io utilizzerò un taglia bordi e un taglia siepi e tu e io invece utilizzerò la microsega e l'aspirapolvere senza filo a limited e tu sei pronto? I am ready sono pronto vediamo grazie alla sua tecnologia con questa microsega il taglio dal pieno è semplice e veloce grazie all'impugnatura ergonomica con il tagliaboard di Bosch il lavoro è facile e Federico non si affatica grazie alla scopa senza filo si possono pulire agevolmente anche superficie e spazi poco accessibili come tra i cuscini del divano dietro i mobili o i sedili dell'auto Federico mi sta recuperando con quel tagliasiepi sembra che non stia facendo alcuno sforzo finito missione compiuta ma sono convinto di essere stato più veloce beh forse se qualcuno non mi avesse rubato la batteria avrei finito prima io comunque complimenti Andrea dai sei stato bravo anche tu sei pronto alla prossima sfida? sono pronto ok ti vedremo ciao 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 ciao